ci buttiamo due rettilineo interni e esterni tutto a destra lasciamo la vista verso sinistra 150 stacchiamo si stacca forte l'interno interno ancora esterno si dà tutto gas puntando il cordolo esterno quinta cento porto l'esterno si aggasse prima possibile in salita terza quarta quinta 50 si cerca di stare più interni possibili tutto gas esterno terza quarta quinta cordolo interno si riema terza quarta quinta intanto vediamo quello davanti che ha fatto i numeri infatti sta rientrando in box ci ributtiamo sul rettilineo che era un 148.0 che era un 148.0